Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri 0434 555486 o 0434 551455. Ripetiamo, 0434 555486 oppure 0434 551455. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Sabato 24 maggio 2014, 99esimo anniversario dell'entrata dell'Italia nella Grande Guerra. Una notte di scheramurcio lungo il fiume alle 22.50 decretò de facto il primo colpo di fucile tra le due fazioni, quella italiana e quella sburgica. Già nella tarda mattinata poi i primi avamposti del reggio esercito entravano nei territori austro-ungarici. Sulle cause che hanno portato allo scoppio della Prima Guerra Mondiale al re soldato si incentra il convegno organizzato dagli ordini dinastici della Real Casa Savoia, delegazione del Friuli Venezia Giulia, per sabato 24 maggio nel Salone del Consiglio di Palazzo Belgrado. L'evento, patrocinato dalla provincia di Udina in collaborazione con le Guardie d'Onore delle reali tombe del Pantheon, si inserisce all'interno delle varie iniziative legate al centenario del conflitto. Relatore dell'appuntamento, Roberto Vittorio Favero, perito del Tribunale di Bologna in araldica e genealogia accademica oppresso l'Accademia degli Incaminati di Modigliana. Continua la lunga serie di degustazioni enogastronomiche gratuite all'Infopoint della provincia di Gorizia al primo piano del Tiare Shopping Center di Villesse. Con cadenza settimanale, infatti, il punto informativo inaugurato qualche mese fa sta ospitando in fine settimana alcune aziende vitivinicole del territorio che possono così farsi conoscere dal grande pubblico attraverso tanti piccoli assaggi dei loro prodotti. Un'iniziativa che la provincia di Gorizia ha ideato con la collaborazione della Camera di Commercio, del Consorzio per la tutela dei vini del Coglio e del Carso, del Movimento Turismo del Vino con le strade del vino. Wi-Fi nelle scuole, lei Ghanis continua a sostenere che comporti dei rischi e dunque di evitare questa scelta, perché? Sì, perché noi sosteniamo che il Wi-Fi nelle scuole è pericoloso ed è completamente inutile. Ormai ha accertato a tutti i livelli la pericolosità del Wi-Fi. E' inutile, ci sono certi che stanno tentando di fare delle analisi, delle indagini statistiche a Udine, però con campioni abbastanza ridicoli, perché un campione o è diffuso, prendere in esame 30-40 classi, non è dal punto di vista scientifico, è completamente nullo, senza validità. Si sa, è ormai 25 anni e più che si sanno i danni dell'elettrosmog, sono accertati, dopo logicamente senza demonizzare il Wi-Fi come nessun'altra tecnologia. E' una delle tante tecnologie che ha i suoi pregi e i suoi difetti. Sta a noi relazionarci in un certo modo ed usarle quando sono strettamente necessarie. Nelle scuole, i ragazzi, almeno nel 90% delle aule, se si esclude forse l'aula magna, non c'è la necessità di avere il Wi-Fi. Le lavagne sono fisse sul muro, non è che si muovono le lavagne, che necessità c'è di avere collegamenti aerei. Si fa quello che si è sempre fatto per la corrente. Per la corrente si usano i cavi elettrici, così si può fare nelle scuole. Sono investimenti anche di basso intensità se vengono programmati assieme agli altri lavori. Come in tutte le scuole c'è una programmazione dell'impianto elettrico che si rifà ogni tanti anni dell'illuminazione, si aggiungono e si tolgono cave, si tratta solo di mettere qualche canalina in più o fare qualche traccia a seconda del lavoro e di inserire anche i cavi per i computer. I ragazzi nelle aule stanno fermi. Ecco, purtroppo c'è poca sensibilizzazione da parte sia degli insegnanti, dei dirigenti scolastici soprattutto, che minimizzano il problema, forse anche perché sono aiutati dal governo che dà degli incentivi a chi utilizza il Wi-Fi nelle scuole. Ha preso il via la decima edizione del Festival Internazionale della Storia a Gorizia. Quest'anno il festival è dedicato al centenario della Prima Guerra Mondiale, riunisce i più importanti nomi della storiografia mondiale sulla Grande Guerra. Nell'ambito del festival è rientrato anche il concerto del maestro Utoghi, che nel santuario di Monte Santo ha dedicato le sue note alla memoria dei soldati di tutte le nazionalità che combatterono in questi luoghi. Grande successo, moltissime le prenotazioni per la visita che si terrà il 25 maggio assieme a John Henningway, ipote del premio Nobel Ernest, nei luoghi di addio alle armi tra romanzo e cinema, passando per Caporetto e Benzone. Filo conduttore di questa edizione è il centenario, come detto, della Grande Guerra, a cui è dedicato il convegno del Comitato Storico Internazionale, presieduto da Paolo Mieli in apertura del festival, che vede riuniti alcuni fra i maggiori studiosi mondiali per offrire una prospettiva globale sul significato del centenario. Un fine settimana importante per la motostaffetta friulana, che ha parlato e ha coinvolto gli studenti relativamente al tema significativo della sicurezza stradale. In che modo e chi ha partecipato? Sì, ci sono stati due appuntamenti nella splendida cornice di Terrazza Mare a Cervignano presso l'Iceo Einstein, abbiamo coinvolto circa 300 studenti, abbiamo portato le nostre esperienze in tema di sicurezza stradale, dedicate soprattutto alla difesa passiva, quindi abbiamo presentato dei caschi innovativi, degli airbag e quant'altro. La grande soddisfazione è stata che provocando i ragazzi, quindi con video abbastanza forti, anzi direi forti, alla fine, a parte siamo riusciti a non annoiarli, però alla fine ci sono venuti a chiedere dei consigli, quindi siamo riusciti a far passare che sull'abbigliamento da motociclismo i soldi sono sempre ben spesi e non si può andare a risparmio. Magari risparmiamo sulle elaborazioni, sulle finiture estetiche della moto, ma non quello che serve a noi per proteggerci. Peraltro quest'iniziativa ha nuovamente ottenuto il sostegno da parte della Presidenza della Repubblica. Sì, c'è stata quest'anno la novità anche di un messaggio da parte della Presidenza del Consiglio dedicato alla manifestazione, al settimo meeting delle motostaffette di Friuli Venezia Giulia. Inoltre c'è stata riconfermata per il quarto anno consecutivo la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, quest'anno l'abbiamo donata al Vice Presidente della Provincia, Franco Mattiussi. Utilizzati i video shock, ma questi video colpiscono, fanno effetto, vengono capiti e compresi? Assolutamente sì, sono stato anch'io studente degli ultimi banchi e se facciamo delle dimostrazioni didascali, molto didattiche, lo smartphone è in agguato. Invece la grande soddisfazione che abbiamo avuto è che abbiamo catturato per due ore l'attenzione degli studenti e poi ripeto, alla fine il feedback, quello che ci è ritornato è che ci sono venuti alla fine della manifestazione a chiedere alcuni consigli su quali attrezzature utilizzare. Come realtà di volontariato è legata comunque alla protezione civile regionale e siete presenti anche al Giro d'Italia? Sì, ormai ci siamo, nei prossimi giorni faremo dei sopralluoghi nuovamente perché l'erta dello Zoncolan c'era ancora neve sopra, grazie ai buoni uffici di Enzo Cainero, quindi prossimo sabato, sabato 31, saremo alla tappa monstra del Giro d'Italia che promette di essere decisiva, quindi trasporteremo i meccanici lungo l'erta finale e cresce la febbre da giro. Che periodo sta vivendo l'ambito che riguarda l'allevamento del cavallo? L'allevamento del cavallo in questo momento sta vivendo una situazione molto difficile, bisogna premettere che l'allevatore del cavallo non l'ha mai fatto a fini di lucro perché è un allevamento che non è ereditizio come potrebbe sembrare perché le spese sono molto alte e quindi pensare di ricavare o di guadagnare o vivere solamente di allevamento del cavallo è utopistico. C'è stata una situazione economica e c'è ancora una situazione tale per cui chi aveva allevamenti di cavalli, chi aveva fattrici, adesso ha desistito a proseguire nell'attività allevatoriale per motivi economici e anche molte volte per motivi di soddisfazione. Chi allevava cavalli per produrre puledri, oltre al di là del fatto economico che come ho detto non era sicuramente l'obiettivo, mirava ad avere delle soddisfazioni. Purtroppo in questo momento di crisi le soddisfazioni non ci sono, soprattutto nell'ambito dei cavalli da corsa. Che tipo di animale è il cavallo? Il cavallo è un animale molto sensibile, è un animale pauroso, è un erbivoro e quindi molte volte quando ci si avvicina al cavallo lo si vede grande, fa un po' paura, lui percepisce questa paura che abbiamo come del resto tutti gli altri animali e rischia di innervosirsi e di mettere ancora più paura rispetto a quella che è la realtà. In effetti al cavallo bisogna avvicinarsi sempre in modo molto tranquillo e in modo molto sereno, sapendo che non è un animale aggressivo. I cosiddetti cavalli cattivi, una volta se ne vedevano di cavalli cattivi, in realtà il loro comportamento era dato sempre ed esclusivamente da brutte esperienze che avevano avuto all'inizio della loro vita. Anche perché il cavallo è un animale che ha memoria, è molto abitudinario e quindi quando subisce un trauma, soprattutto se riesce ad associare la situazione al trauma, quando questa situazione gli si ripresenta davanti avrà le stesse reazioni. Ci sono accorgimenti particolari da mettere in atto quando ci si avvicina, soprattutto magari anche i più piccoli, ad un cavallo? Molte volte io vedo i bambini che corrono incontro al cavallo cantando, gridando, questa è la situazione peggiore e più difficile che si possa presentare per il cavallo stesso. Al cavallo bisogna sempre cercare di avvicinarsi di fronte, facendo vedere, facendo capire che ci si avvicina a lui, soprattutto come era scritto nei vecchi libri di semiotica chirurgica, con franchezza e prudenza, cioè dargli fiducia, non avere paura. Se si ha paura del cavallo è meglio avvicinarsi con qualcuno che in qualche modo cercherà di far superare questa paura. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della adunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione, potete chiamare i seguenti numeri 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo, 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.